Grazie a tutti faccio che nello specifico sono i fumetti e faccio fumetti da un sacco di tempo in realtà da anche 15 anni però per un sacco di persone in realtà sono stato una lettura degli ultimi 1, 2, 3, 4 anni che più o meno questa cosa è coincisa con quando ho iniziato a fare un blog a fumetti che è 0calcare.it che ha funzionato molto meglio di tutti i tentativi dei cose che avevo fatto prima che fossero cartacee, web o quant'altro e questo come presentazione l'altra cosa per mettere le mani avanti è che questa è una scuola questa formalmente è una lezione però io non sono un maestro del niente in realtà non ho neanche una formazione di tipo né classico né non classico nel senso che questa cosa dei fumetti di fatto l'ho fatta leggendone un sacco e restituendola come una cozzaglia di cose che più o meno avevo messo insieme come esperienze nel corso e copiando un sacco eccetera però senza mai averne aver ricevuto delle lezioni specifiche e quindi sconto pure una grossa mancanza di accademicità su un sacco di cose quindi le cose che vi dico sono un po' l'esperienza mia un po' le cose su cui poi ho provato a riflettere proprio sulla base di quello che vedevo che funzionava, che non funzionava eccetera io spero che a qualcuno gli possa servire questa cosa se invece sembra che non serva a niente mi dispiace però un'altra cosa invece super importante è che in generale io sono estremamente a disagio a attaccare i pipponi giganteschi da solo tra l'altro senza un'interlocuzione quindi se qualcuno in qualsiasi momento ha una domanda da fare non dico alzate la mano perché può essere che io guarderò tipo quella scarpa per tutto il tempo quindi non mi accorgerei se qualcuno alza la mano però se fate o comunque fate un verso che richiama la mia attenzione potete intervenire e fare domande in qualsiasi momento ed è meglio sia per voi se c'è una domanda sia per tutti perché interrompiamo magari il siluro che attacco allora io quello che penso che l'unica cosa che nell'ambito del lavoro mio che ho titolo a provare a raccontare o a spiegare appunto è un po' quello che faccio nello specifico alla questione del blog a fumetti secondo me già cercate di definire cioè al blog a fumetti ho il fumetto autobiografico che è quindi quello che significa anche magari in termini di scrittura questa cosa qua e poi io non so quanti anni ci avete in verità voi penso che qualcuno ha quasi l'età mia qualcuno è molto più piccolo invece e secondo me questo concetto anche proprio del blog è una cosa che le persone magari più giovani non hanno neanche tanto dimestichezza con il blog come si intende nel caso del blog a fumetti nel senso che ormai praticamente tutti i siti sono blog nel senso che con con wordpress eccetera ogni sito tematico anche che parli di cucina o di qualsiasi altra cosa comunque è allo strumento del blog però in realtà i blog quelli della prima generazione di blog cioè appena arrivato il web 2.0 che erano quando nascevano i vari splendor blog spot e quelle piattaforme là erano una roba immonda e indecente per lo più nel senso che erano degli spazi dove adolescenti che magari tornavano da scuola ci scrivevano tutti i cazzi loro con oggi ho litigato con la professoressa a me piace l'anoressica tutte queste cose qua a seconda delle persone era una cosa che funzionava una cifra io pure avevo un blog di quel tipo da 18 anni 17 anni ero pure più grande di quelli che dovevano essere il target di quella cosa ed erano quasi tutti uguali nel senso che quando uno si mette a raccontare spesso la propria esperienza concentrato su se stesso sul proprio mondo eccetera spesso capitava che erano tutti i blog fotocopia di persone che tornavano che avevano litigato con il professore che si avevano lasciato con la ragazza eccetera è il motivo per cui questa cosa ci ha avuto in realtà un ciclo di vita abbastanza breve nel senso che è durato per un po' quando era una novità e poi è andato in qualche modo scemando in realtà quello che io faccio col blog a fumetti è una cosa che invece è molto simile a quella roba là molto più simile a quella roba là che non a quello che si dice a quello su cui si intende il blog oggi perché quindi sta roba in qualche modo ha funzionato e tanto che poi il blog ha avuto un sacco di accessi ha trainato anche voi le vendite dei libri eccetera eccetera e non è stato invece bollato come tutto il resto di quella monnezza che aveva preceduto in realtà perché ci stanno i fumetti di mezzo che era che è un elemento di novità ed è un elemento che in qualche modo diciamo distingue questa cosa nel senso che ci sono meno persone che sono capaci a fare un blog a fumetti rispetto a quelle che sono capaci a scrivere come è andata la giornata perché meno persone hanno proprio lo strumento della matita eccetera e quindi siamo un po' di meno probabilmente se ci fossero tantissime persone che sia a scuola si insegnassero benissimo a disegnare a fare i fumetti sta roba invaderebbe il web e saremmo spazzati via dalla storia come fu per i blog precedenti però invece questa cosa è così questa roba tra l'altro adesso in Italia magari è una cosa che viene battuta poco nel senso che non so tante le persone che fanno i blog a fumetti non so tante le persone che provano a narrare se stesse attraverso quello strumento là invece in altri paesi come la Francia questa roba invece esiste funziona è un uno spazio proprio di mercato addirittura e infatti io ho copiato avete fatto un sacco di roba dai blog francesi nel senso che io ero proprio innamorato di quella roba là ho pensato che questa roba non sarebbe mai stata tradotta in Italia quindi manco nessuno si sarebbe accorto da dove andavo a copiare quindi ovviamente poi raccontando la vita mia quando dico copiare è sempre un po' relativo nel senso che non è che raccontavo la vita di un altro però copiavo proprio il linguaggio e quella roba là invece l'ho assunta molto uno dei motivi questo magari non c'entra tanto con la tecnica di scrittura però invece c'entra molto con il motivo per cui questa cosa ha funzionato eccetera è che a me mi sembra che in generale in questo momento qua io parlo del fumetto voi fate un sacco di cose diverse fate scrittura dei vari tipi anche di serie di film eccetera e nel caso del fumetto invece la narrazione della generazione mia in realtà io parlo di generazione mia ma per come funzionano ormai le generazioni e per diciamo che dai 18 anni a tre anni fa io ho fatto praticamente la stessa vita nel senso lavoretti cosette cercando di arrabbattarmi eccetera e se non avessi avuto questa cosa dei fumetti starei esattamente fermo al palo come stavo a 18 anni appena uscito da scuola quindi in realtà quel tipo di generazione cioè quando io parlo di generazione parlo in realtà di una fascia d'età molto grossa che ha più o meno lo stesso stile di vita e quella cosa là a fumetti non si era ancora non si era raccontata nel senso non si era autonarrata questa cosa in verità voi magari la fate nel senso che è stata fatta con i romanzi è stata fatta con i film sicuramente l'hanno fatta le webserie e quindi in quell'ambito là è un mercato che comincia già ad avere un po' delle non è sicuramente saturo però comincia ad avere anche dei metri di paragone questo è meglio questo è peggio eccetera invece a fumetti questa cosa non era ancora stata fatta e quindi è andata un po' a riempire una sete che c'era da parte delle persone da parte di un pubblico potenziale di leggere questa cosa di identificarsi nelle cose che venivano raccontate e poi un altro dei motivi per cui questa cosa tutto sommato è andata abbastanza bene questa cosa un po' anche lì è un po' una specificità del fumetto ma è una cosa su cui secondo me le persone dovrebbero sempre riflettere anche quando scrivono di altro eccetera è che ogni è scontata è una cazzata che probabilmente lo sapete meglio di me però io non avevo studiato questa cosa quindi per me è stata una grossa scoperta sul campo che ogni medium ha il suo modo non soltanto il suo modo di raccontare e quindi bisogna approcciarsi in una maniera specifica su quel medium lì ma la stessa cosa raccontata su media diversi ha un effetto completamente diverso nel senso che spesso scrivere i fumetti in realtà può essere più difficile per certe accortezze tecniche per certe cose da fare però nell'effetto finale sul lettore spesso se uno è capace a fare il suo mestiere quindi è capace a usare la grammatica del fumetto poi rispetto ai contenuti il fumetto è molto più semplice secondo me su un sacco di cose nel senso che la stessa cosa che io disegno a fumetti se viene recitata o trasposta in un film quindi sceneggiata per un film e poi recitata oppure appunto in una web serie eccetera spesso esce una monnezza maledetta e su esattamente gli stessi contenuti e le stesse cose però sembra che l'ha fatta Vanzina da una parte o sembra che l'ha fatta Fabio Volo su un'altra parte eccetera a fumetti questa roba un po' non esce così perché non esce così un po' perché c'è l'immagine che in qualche modo dà un altro elemento eccetera ma secondo me perché il fumetto al di là della scrittura che impegna diciamo che al di là della parte di lavoro mio che è scrivere questa cosa richiede un lavoro molto più grosso da parte di chi lo riceve che è un lavoro proprio di coinvolgimento in prima persona anche nella narrazione perché il fumetto ti richiede in qualche modo di riempire tutta una serie di buchi con la tua immaginazione e tua di lettore nel senso non soltanto intanto il fumetto non parla cioè leggi ma la voce la voce interiore è la voce tua e sei tu che decidi che voce dare a quello che stai leggendo e poi ti richiede anche uno sforzo proprio anche di immaginazione rispetto banalmente a quello che succede tra una vignetta e l'altra quello spazio bianco che divide una vignetta disegnata dall'altra è uno spazio che riempite e che leggi e questa cosa tu lo riempi come ti piace di più solitamente a meno di perversioni strane quindi in qualche modo questa cosa secondo me a noi narratori dei fumetti ci ci aiuta un sacco credo e poi invece per entrare un po' più nello specifico della cosa che dicevo che è quello del fumetto autobiografico di quello che faccio io del blog a fumetti eccetera e bisogna contare che rispetto a quello che magari fate voi che è di raccontare una storia voi magari avete bisogno nel senso di inventarvi una sceneggiatura di inventarvi un twist una risoluzione una situazione iniziale che si va a sciogliere eccetera quando uno e questa cosa in qualche modo se uno la sa fare ti aiuta perché puoi agganciare il lettore anche che ne so penso che a me se sapessi scrivere delle robe di fantascienza o delle robe d'azione probabilmente non lo so qualcuno le troverebbe molto più interessanti le cose mie se uno decide di fare un lavoro invece autobiografico a meno che non c'ha una vita incredibilmente emozionante e spericolata spesso c'hai a che fare con del materiale che che non manco riesci a raccontare tu madre in maniera divertente perché è veramente poco interessante tra l'altro io in realtà ho una vita in cui ho anche dei passaggi tutto sommato in cui mi succedono un sacco di cose sceme non sceme penalmente rilevanti o meno eccetera però tu non sempre decidi di raccontarle quelle cose quindi sai che c'hai a che fare con del materiale che tendenzialmente può essere anche molto banale molto banale e molto già conosciuto da tutti quindi quello che tu in qualche modo secondo me hai l'unica arma che hai a disposizione nel momento in cui vuoi raccontare questo tipo di cose sostanzialmente è la sincerità cioè la sincerità nel restituire nella scrittura le cose che tu stai vedendo sincerità che però non significa in nessun caso io sta roba ci tengo un sacco perché poi genera un sacco di equivoci e anche dei limiti nelle persone che provano a fare sto lavoro qua non significa che tu quando fai un fumetto autobiografico o di vita quotidiana eccetera devi fare un lavoro di non so come di non stai a fare un documentario non è un verbale dei carabinieri quello che stai facendo in cui devi dire per filo e per segno con esattezza quello che hai fatto e se stai mentendo qualcuno lo capisce eccetera nel senso che poi è ovvio che noi stiamo scrivendo stiamo facendo un lavoro di intrattenimento del prossimo quindi tutti gli interventi che servono che narrativamente servono a rendere la storia più comprensibile più fluida più qualsiasi cosa insomma per me sono tutti leciti per esempio se a me mi è successa se io sono andato alle poste e mi è successa questa cosa dopodiché per motivi narrativi io questa cosa non posso cioè diventa faragginoso ambientarla nelle poste perché è complicato perché devi spiegare più cose eccetera eccetera e è più comodo raccontare questa roba è avvenuta al semaforo piuttosto che al supermercato o che una persona con cui hai litigato in realtà erano due nella vita vera però ti aiuta invece fonderle in una persona sola eccetera io è una cosa che faccio continuamente e non mi sento di stare truffando nessuno nel senso che quando io dico che bisogna che la cosa imprescindibile è la sincerità tendenzialmente intendo che è la sincerità non negli eventi ma nelle emozioni cioè rispetto a quello che uno sta provando a restituire i pensieri le paranoie le emozioni eccetera su quella roba non è che uno si può fare tanti sconti nel senso che se tu non dai voce a quella voce interna tua ma su quella roba là provi a a ragionare per in maniera fredda a tavolino oppure per stereotipi oppure perché pensi che questa cosa magari non dai retta a quello che pensi ma dai retta a quello che secondo te dovrebbe essere il pensiero di una persona eccetera insomma questa roba viene fredda viene fredda brutta e non gli è fredda un cazzo a nessuno perché tutti sanno già quello che uno dovrebbe pensare invece quello che sono le emozioni sincere delle persone spesso spiazzano pure perché non sono fatte con un manuale spesso sono anche molto lontani dalla retorica con cui ci rappresentiamo anche noi stessi quando ne dobbiamo parlare al bar o in famiglia eccetera e e quindi l'esperienza mia è che più sei sincero nel mostrare questa roba e più sei efficace nella comunicazione più la gente ci si riconosce più la gente il messaggio gli arriva diretto e più alla gente gli piace dopo di che per fortuna chi fa sto lavoro qua che può essere il fumettista ma può essere lo scrittore come può essere il copywriter o quello che è non non famo i medici d'urgenza in Afghanistan l'efficacità non è l'unico metro su cui si cioè non è il l'unico metro da prendere in considerazione rispetto al lavoro che facciamo perché perché poi ci possono stare un sacco di cose nel senso che io la cosa di cui mi sono reso conto è che diciamo ogni paletto che tu metti nel raccontare la quello che c'è dentro è un freno a quell'efficacia là ho detto efficacità mille volte se dice efficacia scusate grazie perché nessuno è sbottato a ridere e vabbè però il fatto che questi paletti poi dobbiamo decidere un po' noi quelli che vogliamo mettere e quelli no diciamo che se tu decidi che vuoi sembrare una persona bellissima e simpaticissima e coraggiosa eccetera e quindi i tuoi paletti sono di non raccontare le tue fragilità le tue meschinità le tue debolezze eccetera probabilmente quello che verrà fuori sarà molto artificioso e molto anche brutto secondo me però non vuol dire che non devono esiste i paletti perché comunque non siamo né medici di pronto soccorso e non siamo neanche dei reporter dei cronistico di antologia di chissà che cosa eccetera quindi in qualche modo uno può decidere per esempio per vari motivi anche per per tatto o per tutela della propria privacy o della privacy di qualcun altro io per esempio quando mi sono trovato a fare un libro in cui io tutto sommato diciamo le debolezze mie non c'ho cioè ho imparato quali sono quelle che accetto di mettere in piazza di dare in passo al pubblico e le cose che invece non sono in grado di fare e quando mi sono trovato a fare un libro in cui dovevo parlare della debolezza per esempio o delle fragilità di qualcun altro nello specifico di mia madre quella roba ovviamente a me mi ha messo un sacco di difficoltà in più lì non è che io ho pensato vabbè siccome devo emozionare le persone allora devo rappresentare mia madre in assoluto nel suo dolore nelle sue cose eccetera eccetera e sti cazzi degli effetti che produce io quella cosa ne ho discusso con mia madre delle cose abbiamo fatto proprio un G2 in cui decidevamo cosa si raccontava e cosa no alcune cose le abbiamo di comune accordo deciso di tenerle fuori lo stesso vale per degli aspetti di vita privata gli aspetti anche io per esempio non ho mai disegnato una scena di sesso sostanzialmente un po' perché sono una sua rorsolina un po' perché comunque sono delle cose che vanno anche a raccontare l'intimità e la vita privata di qualcun altro eccetera quindi diciamo che io credo che ognuno poi decide dove piazzare i propri paletti con la consapevolezza che ogni paletto che metti è un freno all'efficacia di quella della comunicazione tua dopo di che appunto se tu ti vuoi guardare allo specchio la mattina spesso c'hai delle cose che le devi mettere lo stesso anche se poi magari per il tuo lavoro saranno un impedimento e invece appunto rispetto a quelle che sono le emozioni su cui io decido di non mettere paletti io penso che la cosa almeno nel caso mio la cosa che funziona meglio è provare con la scrittura a fare un lavoro proprio di autopsia di dissezione di quello che una persona di quello che pensi in quel momento nel senso di adesso scusa su questa cosa ci ritorno dopo in realtà c'è una cazzata di che però secondo me è interessante perché fa fa capire questa cosa io non so quanta gente si è letta io ho fatto il secondo libro che ho fatto si chiama Un polpo alla gola ed è parte da quello che io chiamo il polpo alla gola è questa specie di senso di colpa che mi che nella storia io mi porto appresso per tutta la vita e che non di cui non mi riesco a liberare eccetera e parte da una cosa veramente successa io però racconto dentro il libro che questa cosa nasce da quando ero ragazzino perché avrei fatto la spia a un'amica o un'amichetta mia all'elementarica o alle medie che aveva fatto sega a scuola in quel momento là io avrei fatto la spia per x motivi e poi questa sensazione di aver fatto la spia me la sopportata per un sacco di anni senza riuscire a dirla a confessarla eccetera in verità io in quel libro lì io ho fatto un sacco un lavoro di provare a raccontare quello che c'avevo dentro anche quella sensazione di un polpo alla gola eccetera in verità nella mia esperienza vera io non ho fatto la spia cioè tra tutte le cose orrende che ho fatto nella vita non c'è sta a fare la spia in generale ho fatto una roba però che io non so non so riuscito a tirare fuori in quella sede che non ero pronto a mettere a dare in pasto al lettore e che non ho mai detto quasi a nessuno l'ho detto penso a una persona nella vita non è una roba penalmente rilevante era un ragazzino non è stupirato non è ammazzato nessuno però è una roba che a me mi fa sentire in colpa in una maniera infinita dall'epoca pur di non raccontare questa cosa che per me era un paletto imprescindibile io ho messo questa cosa in cui ho fatto la parte dell'infame che in assoluto è la cosa più orrenda che mi possa venire in mente in generale che secondo me all'interno del libro stesso in qualche modo depotenzia il libro perché toglie anche empatia io non riuscirei ad empatizzare con uno che fa la spia quindi toglie pure empatia rispetto alla cosa eccetera per me è una cosa che ha penalizzato il libro però era un paletto che io ho messo che non riuscivo a fare questo per fare gli esempi dei paletti come uno sceglie le cose eccetera mentre invece se uno riesce a mettere tutte le proprie emozioni sul tavolo a scriverle in maniera proprio scientifica cioè io prima ho pensato questo poi subito dopo ho pensato questa cosa qua e che mi ha generato quel tipo di reazione lì secondo me è una cosa a parte che è un esercizio buono per capire se stessi in generale ma poi è una cosa che consente al lettore di identificarsi nelle cose che tu stai che tu stai scrivendo questa cosa qua tra l'altro si sto andando se sto attaccando veramente proprio la pippa infinita ditemelo è una cosa che ci aggancia un po' al linguaggio proprio della scrittura mia che è stato considerato un po' paraculo senza un po' io sono stato accusato di grossa paraculaggine per alcune scelte di scrittura e di linguaggio mie però invece secondo me diciamo io ho una spiegazione di perché ho fatto quelle scelte che non hanno nulla decalcolato a tavolino anche perché nel momento in cui questa cosa è iniziata io pensavo di rivolgermi agli amichetti miei dei centri sociali eccetera non pensavo che questa roba andasse a svoltare chissà cosa che è quello di un superuso delle citazioni nei fumetti miei non so chi si è letto e chi no però io effettivamente faccio un grossissimo uso di citazioni spesso di citazioni di cultura popolare di quella che è la cultura popolare che appartiene a me quindi quella diciamo tra io sono nato nell'83 però ovviamente non è che negli anni 80 io avevo fino almeno all'89 grossa coscienza del mondo che mi circondava quindi la fine degli anni 80 e gli anni 90 dalle quelli che erano i telefilm serie tv i film i cartoni animati i videogiochi quella roba là è stata per un sacco di tempo parte del mio quotidiano e mi viene naturale poi restituirla e che questa cosa ha funzionato in qualche modo perché non è parte del quotidiano mio personale individuale e basta ma è stata un patrimonio condiviso per un sacco di persone e questa cosa ha un un duplice un duplice valore nel senso che da un lato quando io provo a raccontare quelle che sono le esperienze mie quelle che sono le emozioni mie in un dato momento spesso mi viene per spiegarle a qualcun altro di usare dei paragoni di quel tipo lì nel senso io sono rimasto sgomento nello scoprire questa cosa come Luke Skywalker quando scopre che Darth Vader è suo padre ma non è che questa roba è uno sì è chiaro che c'è un elemento che strizza l'occhio a chi magari piace Star Wars e questa cosa lo fa ridere però per me è proprio una maniera di fare chiarezza nel senso per spiegare al meglio quello che sto provando usando degli strumenti che in qualche modo stanno in comune tra me e chi mi legge e questa roba qua in realtà da un lato a me mi aiuta a spiegare delle situazioni poi è proprio una scorciatoia spesso nel senso che io lavoro su delle cose di scrittura comunque abbastanza corte spesso cioè quando faccio i libri magari ho più tempo per mettermi a raccontare che ne so arriva un personaggio quel personaggio per me è un personaggio cattivo perché magari che ne so per tutta la vita mi ha torto i sordi a scuola della merenda tutte queste cose qua e c'ho il tempo in un libro di raccontare tutti gli episodi che fanno sì che io penso che lui è un stronzo però se invece io ho tre pagine a disposizione io non è che posso fare quel tipo di lavoro lì io ho bisogno che quel personaggio sia immediatamente connotato in maniera negativa in una maniera che è comprensibile a tutti quindi se io lo utilizzo lo rappresento come Jabba The Hat o come che ne so Sauron o qualcuno che immediatamente tutti identifichiamo come un cattivo a me questa cosa mi fa fare un sacco di mi fa risparmiare un sacco di pagine un sacco di inchiostro e di spiegazioni faragginose e quindi questa cosa in generale penso che è una cosa che funziona bene e che paradossalmente ci aiuta a descrivere proprio la realtà è proprio un linguaggio che ci aiuta a descrivere la realtà anche se parte da elementi definizioni è proprio come se fosse un alfabeto in qualche modo che ci accomuna a tutto un pezzo di fascia di età di chi ha vissuto le stesse cose e che in quelle cose riconosce delle cose vere non è che ci riconosce delle cose di fiction quindi io non la considero una cosa né particolarmente paracula né particolarmente indegna e l'altro passaggio rispetto al linguaggio che io cerco di fare di solito è invece di tipo rispetto proprio invece questo alla scrittura vera e propria ai termini che si utilizzano quando si scrive eccetera è che anche lì c'entra molto con la sincerità nel restituire le cose è che cerco di scrivere il più possibile come come parlo e come parlano gli altri che è un lavoro in verità che su cui uno ci deve stare un po' attento nel senso che spesso quando noi pensiamo di scrivere esattamente quello che diciamo eccetera invece invece non lo facciamo perché ci hanno insegnato che la scrittura c'è tutta una serie di codici di elementi eccetera e quindi noi pensiamo di scrivere dialoghi molto veri e in realtà stiamo scrivendo delle cose che non che non hanno niente a che vedere come uno parlerebbe veramente che io di questa cosa me ne sono accorto un sacco nel momento in cui è iniziata la fase di sceneggiatura della profezia dell'armadillo del primo libro mio che hanno provato a portare al cinema e che qui nella fase di riscrittura del film perché poi il film è stato comunque riscritto per intero cambiando un sacco di cose eccetera e a me mi avevano appaltato i dialoghi diciamo e io mi sono messo a scrivere i dialoghi come scrivo i fumetti e mi sembrava di fare delle cose che erano in qualche modo molto cioè io ero convinto che la scrittura mia fosse molto rappresentativa di come parliamo e parlano le persone e invece il cazzo in realtà nel senso che io scrivo dei pipponi infiniti dei monologhi giganteschi eccetera che nel momento in cui li ho sentiti recitati da qualcuno che doveva recitare quella sceneggiatura mi sono accorto che invece la vita vera è fatta da molti più scambi frasi spezzettate frasi con una sintassi completamente sgrammaticata oppure che inizia si interrompe si rimbalzano i personaggi delle sillabe eccetera e questa cosa in verità a me mi è servita molto perché mi ha fatto proprio capire che in realtà quello che io pensavo fosse una scrittura che rispecchiava molto la verità non era così è chiaro che in un fumetto significa moltiplicare le le vignette provare a fare una scrittura il più possibile vera perché se tu una cosa tipo ciao come stai le dici in una vignetta sola se devi invece provare a rispecchiare lo scambio vero che si interrompe e si risponde altre dieci volte eccetera significa fare una vignetta due vignette tre vignette debatto e risposta soltanto per arrivare allo stesso concetto ciao come stai e quindi uno poi deve trovare un equilibrio in queste cose però secondo me questo equilibrio qua poi è lo stesso equilibrio che in qualche modo va trovato su una mediazione linguistica nel senso che io credo che io tendo a parlare esattamente come parlo e quindi a scrivere esattamente come parlo e quindi a riportare anche il romano o la struttura romana delle frasi poi se mi rendo conto che una cosa è veramente incomprensibile o gratuita o che non aggiunge nulla neanche alla veridicità della cosa eccetera ma è soltanto un ostacolo per il lettore magari cerco di scremare delle cose e trovare un equilibrio però è importante secondo me cercare questo equilibrio di trovarlo cercando di avere la barra sul tenere il più possibile un tipo di comunicazione genuina anche quando cioè di restituire una genuinità nella comunicazione secondo me rende le cose molto più non lo so pure molto più divertenti da leggere e un lavoro da paura per fare questa cosa è sbobbinare io ho sbobbinato io ho fatto per un sacco di tempo fino a un anno e mezzo fa le traduzioni dei documentari dei caccia e pesca che è una cosa orrenda che non auguro a nessuno nella vita e che in realtà non faceva solo traduzioni io avevo proprio il mi davano il VHS penso che strumento del 900 e avevo le cuffie e dovevo rilevare tutti i dialoghi e segnare il minuto il secondo esatto in cui veniva detta ogni battuta e poi tradurla e serviva per fare poi manco i sottotitoli l'oversound che non è manco il doppiaggio è quando si abbassa la voce originale e poi c'è la voce italiana che gli va un po' sopra con poco ritardo e quella roba orrenda in verità mi ha costretto a magari c'era uno scambio che mi sembrava molto semplice in cui mi diceva che bella carpa sì è proprio una bella carpa però è un super esercizio perché se tu vedi uno scambio che da vedere così ti sembra molto semplice appunto oh che bella carpa poi nel momento in cui devi rilevare esattamente quella cosa lì ti rendi conto che per dire oh sì è proprio una bella carpa eccetera questi hanno fatto dieci scambi dieci sillabe smuzzicate parlandosi una volta una volta l'altra eccetera e secondo me è importante se non restituirla comunque avercelo molto presente per poter decidere come restituire le cose che uno scrive e quindi sbobbinare le cose secondo me è un super esercizio e l'ultimissima cosa che sì hai la mano arzata te no allora lui mi ha chiesto se il progetto del film è andato in porto se qualcuno non l'ha sentito in realtà il progetto del film è allora da quando è iniziata sta roba del film io quello che ho ripetuto sempre è che la situazione perfetta sarebbe stata se ci pagavano la sceneggiatura e poi il film si bloccava così nessuno mi veniva a cagare il cazzo meglio il libro meglio il film tutte cose così e adesso siamo in quel momento bellissimo in cui ci hanno pagato la sceneggiatura però il film si è arenato quindi finché questa cosa si è arenato per le lungaggini italiane che poi slitta in quel momento non ci stanno i sordi quando ci ristanno quell'altro sta a fare un altro film quindi in questo momento è questa bellissima condizione qua e io è come quello che cade dal palazzo ogni piano dice fino a qui tutto bene sto molto sereno per questo poi però potrebbe da un giorno all'altro cambiare quella situazione e poi appunto l'ultima cosa che che ci avevo da dire rispetto a questa cosa è un altro filone su questa roba sono molto più cauto nell'esprimermi perché perché è una cosa che ho fatto finora abbastanza poco ho degli esempi cioè adesso ci sto lavorando molto in questo periodo però non è che posso dire se sta roba viene bene o viene una merda perché ancora ci sto un po' lavorando sopra che è il fatto di provare a a raccontare delle cose diverse dall'autobiografia stretta non nel senso che non partono dalle emozioni mie ma di provare a raccontare delle cose che siano anche informative e nello specifico sto pensando a quelli che possono essere delle cose che poi vengono chiamate tra virgolette reportage a fumetti a me fa orrore quel tipo di termine però che io sono stato sul confine turco-siriano un anno fa e poi ci sono tornato quest'estate invece a Kobane in Siria in Iraq eccetera e ho provato a raccontare per la rivista internazionale adesso lo sto provando a fare in un libro e quel tipo d'esperienza lì che era una roba che mi sembrava molto lontana dalle cose che faccio di solito e quindi su cui non sapevo neanche come approcciarmici bene in realtà mi sono accorto che quella roba che dicevo prima sul fatto che questa cosa delle citazioni di quel modo di raccontare anche di questo di restituire i dialoghi in questa maniera in realtà non è il contenuto di quello che scrivo cioè non è la sostanza è la forma è un linguaggio ed è un linguaggio che può essere utilizzato per raccontare mi pare abbastanza tutto nel senso che io sto angogliando la gomma e sto per morire forse divento cianotico allora che questa cosa qua io ho provato a usare quello stesso linguaggio per raccontare quella quell'esperienza lì ovviamente partendo da me stesso nel senso partendo da il viaggio che ho fatto esattamente quello che vedevo e lì a maggior ragione io ho avuto bisogno di usare dei paragoni e delle citazioni perché era una realtà che era così lontana da quello che era il nostro quotidiano che per spiegarla dovevo fare comunque appello a qualcosa che lui che non è mai stato in Siria in qualche modo ci avesse riuscisse a capire quindi quando io dentro quel reportage magari scrivevo che sta roba dell'Isis per come ci veniva raccontata stavamo dentro a queste pianure deserte con questi villaggi con al centro la gabbia dove si mettevano le gabbiette dove si mettevano le teste tagliate eccetera a me l'unico riferimento che io ho per una cosa di quel tipo là era quando da ragazzino guardavo Kenny il guerriero e ci stavano i bank cattivi i mostri che facevano queste cose orrende nei villaggi eccetera eccetera che non è un banalizzare quella roba dall'altro perché per me da ragazzino quella roba era spaventosissima nel guerriero però è che gli unici metri di paragone che c'avevo per quelle cose lì e per raccontarle era fare riferimento a quel tipo di realtà secondo me questa cosa in qualche modo ha funzionato nel senso che poi non lo so magari chi l'ha letto ha pensato ammazza che merda quindi non voglio essere io che dico che ha funzionato però io ero soddisfatto del risultato perché mi sembrava di essere riuscito a restituire le emozioni che avevo vissuto una quantità di informazioni che solitamente non vengono date dagli media nostrani in una forma che in qualche modo non tradiva il linguaggio mio lo spirito delle cose che faccio di solito e che fosse un po' un'evoluzione rispetto a raccontate come infilo il piumino nel copripiumino o dello sgomento del fatto che un ragazzino mi dà di lei sull'autobus quindi non lo so era una cosa di cui ero abbastanza contento in generale e adesso voi direte vabbè è tutto qua noi che cosa ci dovrebbe aver insegnato questa cosa non lo so ma io non faccio il docente nella vita quindi non saprei benissimo però se qualcuno ha qualche domanda poi magari pensiamo ci vengono in mente delle conclusioni da dire insieme però se qualcuno ha qualche domanda di qualche tipo comunque su 45 milioni di pippa sono stati finora quindi ciao io volevo innanzitutto farti complimenti per il reportage di Cobane grazie e volevo chiederti due domande uno come ti è nata l'idea di fare questo reportage di Cobane appunto e due a me è capitato l'anno scorso essendo al liceo che venisse sfruttato ad operato per spiegare un po' come stava andando la situazione parlando con i miei amici anche in altri licei ho sentito questa cosa proprio dai professori sì una roba mia sì e appunto volevo sapere se avessi mai pensato poter succedere una cosa del genere e come come cioè non so come ti fa sentire questa cosa cioè che venite buffa questa cosa e allora come è nata questa cosa non è nata con un intento di reportage in realtà è nata perché io la generazione mia di Roma cresciuta negli spazi occupati ha un legame molto forte con la causa kurda perché alla fine degli anni 90 venne il presidente del PKK a Roma a Ocalan a chiedere asilo politico arrivarono un botto di kurdi da tutto il mondo da tutta Europa comunque a sostenere quella cosa lì e i centri sociali furono un po' quelli che organizzarono l'accoglienza che portavano da mangiare le coperte alle persone eccetera a me quella roba mi colpì molto tra l'altro fu una stagione pure molto intensa io i primi schiaffi che ho visto con la polizia sono stati proprio sotto le linee returche nell'ambito di quella campagna lì eccetera è una cosa che ci coinvolse molto poi nel corso degli anni questo interesse in qualche modo è scemato perché anche la comunità kurda di Roma i nostri legami con la comunità kurda di Roma si sono un po' sfilacciati perché non abbiamo coltivato tanto questa cosa e quando però un anno e mezzo fa i media mainstream hanno cominciato a raccontare dell'assedio di Gobbane ovviamente nella maniera in cui lo fanno i media mainstream quindi con una grossa attenzione anche all'aspetto folcloristico delle donne guerrigliere eccetera senza però provare a raccontare niente di quello che aveva cioè di qual era il processo che aveva portato alle donne guerrigliere che non è che è una cosa immediata o automatica e quella roba però ci ha avuto il merito di farci un po' riappassionare a quelle vicende lì del Kurdistan e quindi abbiamo cominciato ad andare a parlare con i kurdi a chiedergli perché non ci venite a raccontare cosa sta succedendo là e quello che sta succedendo è una roba che ci ha emozionato molto perché poi al di là di quello che raccontavano e di quello che continuano a raccontare perché questa cosa continua a non essere raccontata praticamente per niente è che in quel pezzo di territorio di cui fa parte anche Cobane che è il Rojava che è una regione in cui stanno succedendo tutte queste cose e che continua a non essere mai nominata dai medi italiani e lì era in atto e ancora in atto una rivoluzione proprio cioè una rivoluzione vera cioè una roba che mette al centro l'emancipazione della donna la ridistribuzione del reddito un rapporto col territorio basato sull'ecologia e non sullo sfruttamento la convivenza tra etnia e religioni eccetera ed era una roba che parlava proprio il linguaggio nostro ma non nostro dell'occidente nostro di chi poi negli anni si era impegnato su tutta una serie di temi eccetera e quindi noi ci abbiamo subito immediato la voglia di andare là intanto per cercare di capire come si poteva aiutare quella cosa come si poteva sostenere alzando soldi portando medicinali o quello che era e poi dall'altra parte andai a imparare qualcosa perché ci sembrava che quella cosa lì aveva molto da insegnare a noi e quindi di capire cosa potevamo utilizzare poi a casa nostra di quegli insegnamenti lì e quindi io sono partito con una roba che prima si chiamava staffetta romana per Cobane poi coordinandosi con altri centri sociali italiani è diventata un'organizzazione che si chiama Rojava Calling e io sono partito nell'ambito di una roba di solidarietà internazionale in questo senso poi più o meno un anno fa è il momento in cui ho cominciato a far pace con l'idea che nella vita faccio i fumetti ho cominciato a cannare le ripetizioni le traduzioni tutta questa cosa qua e quindi ho pensato vabbè fammi provare a raccontare questa cosa a vedere se non lo so se si riesce a fare quindi l'ho fatto un po' con questo spirito qui in realtà sono contento perché è andata molto bene è andata molto bene è una cosa che ci è servita anche a noi come Rojava Calling come strumento per parlarne per farne parlare eccetera quindi poi ho deciso di riprovarci a farlo di provare a farlo in maniera anche più corposa e sostanziosa che no 40 pagine su una rivista come uno tantum eccetera e quindi io l'ho fatto un po' con questo spirito se poi tu mi dici che questa cosa è stata utilizzata nelle scuole io sono super contento mi fa ridere nel senso che penso che ci sarebbero tante persone che io non sono l'esperto di Kurdistan cioè io ho raccontato soltanto quello che ho visto e ogni volta che c'è un'iniziativa sul Kurdistan io anche quando mi chiamano i giornalisti io dico sempre chiamate i kurdi cioè chiamate perché me dovete chiamare a me a parlare di quello che sta succedendo là chiamate i kurdi che sanno gli spostamenti di fronte metro per metro sanno tutto quello che è successo negli ultimi 40 anni eccetera io ci sono stato 15 giorni quindi penso che ci sono tante persone che potrebbero farlo meglio però secondo me delle cosette in quel fumetto venivano dette sono contento insomma in un'intervista in cui ti ho sentito hai detto che uno dei tuoi sogni era raccontare a fumetti la storia dei Nabat e dello italiano avrà mai luce? io aspetto allora a parte che i miei sogni è un parolone per parlare dei fumetti però allora è complicata questa cosa nel senso che per chi non lo sa i Nabat sono un gruppo i bolognese dagli anni 80 adesso l'OI è una branca del punk fatta suonata da ciccioni pelati sudati e tatuati e ancora più in rozza musicalmente come testi del punk del punk stesso è complicatissima questa cosa nel senso che è stata restituita nell'intervista un po' in maniera un po' monca questa cosa allora sicuramente io sarei molto contento di lavorare a delle cose che c'entrano con quel mondo là quindi anche col mondo del punk dell'OI con i Nabat eccetera questa cosa per me è importante però che venga fatta in qualche modo con una forma di assunzione di responsabilità collettiva da parte di quel tipo di universo perché mentre è difficile da spiegare questa cosa che non l'ho mai espressa alta voce credo quando tu fai già io penso che in generale la politica si lo so mi sta in piccina cifra però tu mi hai fatto una domanda complicatissima perché ci tengo una cifra questa cosa qua allora già penso che la politica non la fanno gli individui la fanno i gruppi quindi raccontare delle cose politiche in generale io vorrei che fossero sempre meccanismi collettivi in cui io magari sono l'anello terminale che disegna una cosa però il taglio le cose da raccontare il messaggio eccetera vorrei che sempre che fosse deciso da un'assemblea di persone che decide e che si assume questa cosa e di solito cerco di procedere così quando faccio delle cose di tipo politico però questo con la consapevolezza che delle cose di tipo appunto politico informativo è giusto che vengano divulgate nel senso che se tu fai politica è bene che le persone conoscano quello che vuoi dire o le cose che vuoi dire come nel caso del Kurdistan anche nel caso del Kurdistan io ne parlo in maniera molto personale perché faccio un perché poi parto dalle emozioni mie però quei fumetti sul Kurdistan in realtà sono dei fumetti che sono super collettivi perché i viaggi non li faccio da solo la lettura di quello che c'è intorno non è che io guardo una cosa io so pure non è che io so proprio una cima nel senso che delle cose io ho anche bisogno di confrontarmi con gli altri per capirle le persone con cui parto spesso mi aiutano a inquadrare quello che vedo lì a dare la lettura e una volta che ritorno per me è molto importante che quella roba i kurdi stessi in qualche modo non dico che diano il placet perché è una parola giusta ma che quella roba serva anche a loro insomma ci sono dei passaggi però con lo scopo finale che so che alla fine è giusto che quelle persone cioè è giusto che più persone possibili sappiano quella storia col punk è diverso il punk non è il punk lui eccetera non è una cosa che non è una cosa che deve cambiare il mondo è meglio che tanta gente lo sappia il punk è una sottocultura che in qualche modo è anche degli elementi che in cui di esclusività non so come di nel senso c'è anche delle caratteristiche della setta non è che io spero che da domani ai concerti punk ci vengano un milione di persone a me non me ne frega un cazzo a me il punk è importante che ci abbia invece che che conservi le sue caratteristiche che sono anche lontane da dal mondo mainstream eccetera cioè il punk non va divulgato nel senso se poi ci stanno un sacco di epischelli che vogliono venire a sentire i concerti è una cosa da paura però non è che c'è la missione della divulgazione e siccome a me il diciamo un sacco di aspetti della vita mia sono stati cannibalizzati dai media dei aspetti anche cannibalizzati perché io ho lasciato che fossero cannibalizzati raccontando delle storie personali però sto sempre molto attento a non dare impasto a quel tipo di mondo cioè al mondo mainstream tutto l'universo punk perché non mi voglio assumere io la responsabilità di far finire sul Corriere della Sera in Abbott o di farli finire nello speciale di MTV cioè è una cosa su cui penso che non ho io non mi posso assumere questa responsabilità non ho io il diritto di fare questo passaggio qua se delle persone poi pensano che questa cosa magari cioè gli stessi componenti dei gruppi gli va a deconfrontarsi con quel tipo di mondo gli va a fare quel tipo di passaggio allora ne possiamo discutere possiamo trovare il modo di parlarne però cioè vabbè niente questo questo per far capire quante pippe mentali mi faccio su ogni cosa e che la vita mia è fatta delle gacce e dei paletti e quindi ecco per questo voglio dire ciò che mi piacerebbe parlarne perché è una cosa secondo me molto figa però capendo con le persone interessate in che modo parlarne prima hai detto che nel blog devi conciliare di più la sincerità delle emozioni che non quella dei fatti sicuramente però nel racconto dei kurdi questa cosa hai dovuto magari un pochino più ricalibrarla e mi chiedevo se sia stato un limite o un problema o se in un certo senso magari ti ha anche aiutato e poteva essere uno sguardo diverso e più interessante allora è stato è stato un impiccio non lo so se è che anzi è un limite nel senso che poi magari nella alla fine della nella lettura magari per chi lo legge è pure meglio è pure più interessante è pure un vantaggio sicuramente per farlo è stato un limite nel senso che è una cosa che mi ha creato un sacco di problemi mi ha reso più difficile il fatto di farlo adesso banalmente sto io sono stato quest'estate e sono stato in un sacco di posti sono stato in nel Rojava quindi in Siria sono stato a Kobane prima di tutto però sono stato nelle montagne irachene a Candil dove ci stavano anche le basi del pick up a cap eccetera mentre noi stavamo su quelle montagne ci sono stati i fatti dell'attentato di Suruc che ha ammazzato un sacco nel centro culturale curdo in Turchia che ha ammazzato un sacco dei giovani turchi che stavano andando a Kobane per solidarietà eccetera e questa cosa ha creato uno spartiacqua all'interno di quel viaggio nel senso che i turchi in risposta a quell'attentato lì che era stato fatto ai danni dei kurdi dall'ISIS in realtà i turchi per usarlo a proprio vantaggio interno l'hanno accollato ai kurdi in maniera assolutamente insensata perché è come se i kurdi si fossero fatti in un attentato da soli e l'hanno usato per bombardare Candil che era il posto dove stavamo noi in realtà hanno bombardato il giorno dopo che noi siamo andati via e per la storia mia dal punto di vista proprio narrativo sarebbe stato molto più avrebbe funzionato molto meglio raccontare che prima andavamo in Rojava poi andavamo a Kobane e poi per spiegare da dove veniva diciamo la regia culturale delle cose che stavano succedendo a Kobane eccetera andavamo alla fine a Candil sulle montagne a parlare con quegli del PKK e a farci spiegare tutto come funzionava questa cosa e io avevo deciso a un certo punto di mentire su questa cosa cioè di fare un libro in cui dicevo ok io inverto l'ordine dei posti che abbiamo visto e faccio che siamo andati prima là e poi là perché narrativamente funziona meglio anche proprio dal punto di vista della comprensione del lettore secondo me è meglio raccontare prima quella cosa e poi quell'altra e non mi faceva nessun problema etico nel raccontare sta cazzo da qua mi sembrava che non toglieva nulla alla sincerità proprio per i motivi che ti dicevo prima in verità c'è stato questo cazzo attentato in mezzo che ha reso tutto impossibile da fare a un certo punto perché poi in verità tutte le cose che abbiamo visto durante la parte successiva quindi a Kobane in Rojava era influenzata dal fatto che c'era stato quell'attentato e siccome il posto poi è stato bombardato non potevo dire che dopo siamo andati là se quel posto in quel momento stava sotto i bombardamenti quindi a un certo punto mi sono reso conto che questa roba mi impicciava tantissimo avevo dovuto costruire un castello dei menzogni infinito eccetera e quindi alla fine ho deciso di raccontarlo in maniera in maniera chiara in maniera vera e cronologicamente realistica eccetera non lo so se questa cosa poi in verità io rimango convinto che dal punto di vista della narrazione proprio secca della storia se tu vuoi costruire una cosa che ha una situazione iniziale poi un twist poi una cosa che alla fine si scioglie con un colpo di scena finale la soluzione che avevo pensato all'inizio era meglio cioè dal punto di vista proprio storico cioè narrativo sono storico e invece sto a fare una cosa che è molto più legata alla realtà dei fatti di come sono andati sarà meglio sarà peggio non te lo so di cioè magari invece poi per il lettore sarà un documento più vero e uno strumento più utile però appunto questi sono adesso è ancora un po' presto per dittro se nessuno ha più domande di nessun tipo però l'importante è che poi la gente non mi scrive tipo su facebook tra un'ora e se non rispondo dici sei un pazzo che merda perché non rispondi eccetera quindi se ci sono domande e niente grazie un sacco per la super attenzione grazie a tutti per la super attenzione